Anticipazioni Terra Amara. Nella lussosa villa Yaman, tenendo per mano Adnan e convinta che sia suo fratello, Aminne è riuscita a chiamare un taxi. Salendo a bordo con il bambino, si allontana senza essere controllata o fermata da nessuno. Poco dopo, Gulten non trova Adnan, mentre Fadik è alla ricerca di Aminne. Allarmate, iniziano a cercarli nel giardino e richiamano l'aiuto di Gaffur e Rashid, che si uniscono alla ricerca. Due donne avvisano tutti che li hanno visti salire su un taxi, scatenandoli in proveri per non averli fermati. Sapendo che Aminne non è mentalmente stabile, Gulten chiama il cotonificio per chiedere aiuto a Cetin. La risposta arriva da Fikret, che informa che Aminne e Adnan sono scomparsi su un taxi. Tutti sono preoccupati, e quando Fikret e Cetin arrivano, Fikret rimprovera aspramente per non essere riusciti a controllare una donna anziana e un bambino. Intanto, Aminne ha portato Adnan in paese, in una pasticceria, e inizia a parlare con lui in modo sconclusionato, sorprendendo il giovane cameriere. Aminne parla al bambino come se fosse un adulto, rivelando una relazione segreta tra loro. Stanco, Adnan si allontana dal tavolo senza che lei se ne accorga, intrappolata nel suo mondo. Vaneggiando sul timore che il padre possa scoprire la verità, Aminne si alza e se ne va, lasciando Adnan solo. Fikret cerca di rintracciare il taxi che ha portato via Aminne, ma l'autista è partito per Mersin e torna solo in serata. Disperato, quando Aminne torna in taxi, tutti le chiedono del bambino. Confondendo Adnan con il marito di Unkar, Aminne non riesce a dire dove si trovi il bambino. Nel frattempo, Adnan esce dalla pasticceria e gira per il paese. Viene riconosciuto e fermato dal barbiere, momento in cui Betul lo ha vista. Appena le dicono che è da solo, decide di portarlo con sé a casa. Nel frattempo, Fikret ha radunato gli uomini della tenuta, impartendo ordini su come cercare il bambino. Betul arriva con Adnan, tranquillizzando tutti. Spiega a Fikret di averlo trovato in paese, insieme al barbiere, e lo ha riportato a casa. Senza neanche salutarlo, se ne va. Zuleya e Akan, intanto, cercano Uia. Lui le informa che forse la donna ha dato indicazioni sbagliate, poiché nemmeno il sindaco conosce la famiglia Gumusoglu. Zuleya ammette l'errore e si scusa per il viaggio inutile. Poi decidono di fermarsi per un tè. Zuleya chiede al cameriere se conosce la famiglia Gumusoglu, e lui le racconta di Erkan Gumusoglu, morto investito da un'auto ad Adana. L'infermiera della sorella lo accompagna spesso, poiché la ragazza è invalida e si è gettata dal quarto piano. Intanto, a Villa Yaman, Fikret, colpito dal comportamento di Betul, decide di affrontarla. La ringrazia per aver riportato Adnan a casa. Betul, tuttavia, gli risponde che è suo nipote e che non avrebbe mai lasciato un familiare per strada. Fikret, tentando di spiegarsi, le dice che in paese non poteva avvicinarla perché aveva urgenze aziendali. Betul ribatte, affermando di capire che lui non la apprezza e che vorrebbe vederla solo quando ha voglia. Decidono, quindi, che è meglio non vedersi più. Poco dopo, Fikret vede rientrare luce e, visibilmente arrabbiato, le chiede perché sia andata a Sparta. Lei risponde di essere andata là per ottenere informazioni su Fekeli e ora si sente molto più tranquilla. Si scopre che Fekeli era stato in quel luogo per cercare dettagli su Mehmet e si era tranquillizzato quando aveva saputo che Mehmet si era trasferito a Cucurova solo per fare investimenti. Fikret informa luce che Aminne ed Adnan erano scomparsi dalla tenuta, ma ora sono tornati a casa. Quando Fikret è corso alla villa al momento della sparizione, non c'erano né Zuleya né Luce, quindi chiede a Luce dove si trovi Zuleya. La zia risponde che Zuleya è a Smirne per incontrare Giulia, la sorella di Akan Gumusoglu. Nervoso, Fikret le chiede perché l'abbia lasciata andare, soprattutto considerando che Akan è il peggior nemico di Demir. Luce risponde che Zuleya l'aveva cercata al telefono per farsi accompagnare, ma non aveva trovato Fikret, quindi era partita comunque. Fikret obietta che Akan potrebbe farle del male, ma Luce risponde che Zuleya non è sola. È con Mehmet Kha, che l'ha accompagnata per non farla andare da sola. Furioso alla notizia, Fikret si infuria. Nel frattempo, Zuleya e Akan arrivano alla villa dei Gumusoglu, ma una donna che sembra non riconoscere Akan li accoglie. Zuleya chiede di poter parlare con Uliya e dirle che è collegata a Demir. Dopo qualche esitazione, la donna li fa entrare nella camera di Uliya, che si trova su una sedia a rotelle. Zuleya le dice chi è e mostra preoccupazione. Ma Akan, fingendo di essere un estraneo, le dice che lui non è presente. Zuleya le chiede se ha avuto una relazione con Demir, e Uliya, confermando con un sì, inizia a piangere e si allontana. L'infermiera della stanza racconta che la relazione con Demir era conosciuta solo dalla madre di Uliya, e lei e il fratello Erkan ne sono venuti a conoscenza successivamente. Akan, tuttavia, non lo sapeva perché si trovava all'estero. Poi la donna rivela che Demir e Akan si conoscevano dai tempi dell'università a Berlino e avevano lavorato insieme. Demir era incredibilmente attraente, e Uliya, un adolescente di 18 anni, ne rimase affascinata. Dopo la morte della madre, i due iniziarono a vedersi di nascosto presso la casa di una donna a Mersin. Demir le promise di sposarla, ma successivamente, Uliya ricevette una lettera in cui Demir le comunicava che avrebbe sposato un'altra donna e le chiedeva di non infastidirlo. Disperata, Uliya si gettò dal quarto piano della sua casa, rimanendo invalida. Zuleya chiede il motivo per cui Demir non l'avesse più sposata, e Uliya le rivela che Demir e Akan avevano litigato violentemente. Inoltre, la donna che Demir stava per sposare era molto ricca. Giulia torna in quel momento, piangendo, e consegna a Zuleya le lettere scritte da Demir. Zuleya, sconvolta dal contenuto, le legge, mentre Akan nota una sua foto su un tavolino vicino. Senza esitazione, si alza e la copre con indifferenza. Zuleya, scioccata dalle lettere, chiede perdono a Uliya, spiegando che non voleva che la verità uscisse da quella casa. Poi, rivolgendosi a Akan, le dice che l'uomo che ha fatto del male a Uliya è il padre dei suoi figli, l'uomo a cui ha perdonato tutte le crudeltà. Akan le risponde che anche lei è una vittima come Uliya, ma Zuleya afferma che si merita tutto perché ha perdonato un uomo crudele che l'ha fatta vivere nell'inferno. Confida a Akan che Yilmaz l'amava veramente e che per salvarla da uno stupro era diventato un assassino. Non aveva mai rinunciato a lei, nemmeno quando pensava che avesse sposato Demir per ricchezza e successivamente aveva sposato Mujgun. Nel frattempo, Fikret è ancora nervoso e fuori controllo a causa della storia di Zuleya. Mentre è nel suo cotonificio, inizia a litigare senza motivo con i suoi operai. Cetin, che si rende conto del suo stato, cerca di calmarlo, ma Fikret si arrabbia ancora di più e gli dice di andarsene. Cetin, ferito dalle sue parole, se ne va. Akan e Zuleya sono a smirne, e lui le dice che ha degli affari da sbrigare alla dogana. Lei risponde che lo aspetterà mentre telefona a casa. Akan ritorna ad Aulia e la trova piangente, stringendo tra le mani una vecchia foto di Demir. La abbraccia, la bacia e cerca di tranquillizzarla. Poi, prende la foto in mano e la brucia. Nel frattempo, a Villa Yaman, Fikret è ancora nervoso e esprime preoccupazione alla zia perché Zuleya dovrebbe essere già tornata. Non capisce come possa essere così calma sapendo che è con Mehmet uno sconosciuto. Luce, esasperata, gli consiglia di tornare a casa sua e lo avviserà quando Zuleya sarà tornata. Fikret, tuttavia, decide di aspettare. Finalmente, Zuleya e Akan arrivano, e Luce cerca in vano di fermare Fikret che si sta dirigendo verso Akan. Con tono arrogante, Fikret chiede a Akan perché stia sempre vicino a Zuleya e cosa voglia da lei. Zuleya, per evitare una collisione, dà a Fikret la lettera di Demir a Ulya e gli dice di leggerla per capire che tipo di persona è suo fratello. Un uomo che ha dichiarato amore a una ragazzina per poi abbandonarla, e ora è su una sedia a rotelle da 15 anni. Gli spiega di essere andata a Smirne per incontrarla e scoprire la verità. Non sa come potrà perdonare Demir e ringrazia Akan per averla accompagnata e condiviso il dolore di Ulya. Fikret se ne va, dicendole di non arrabbiarsi. Luce, invece, sostiene che un giorno capirà che ha ragione su Mehmet. Più tardi, Zuleya è sola in salotto e guarda una foto di Demir quando viene raggiunta da Sanye. Le suggerisce di non arrabbiarsi, ma di aspettare il ritorno di Demir e parlarci. Forse ha frainteso ciò che è successo. Zuleya risponde che divorzierà subito perché non può vivere con un uomo che ha rovinato una ragazzina. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!